Salve a tutti ragazzi, bentornati su Q2, su server 2, abbiamo la frecola, se abbiamo proprio la frecola oggi Abbiamo la frecola perchè abbiamo difeso l'ostaggio Dobbiamo difendere l'ostaggio, io ho un nuovo personaggio Ricordiamoci che per F si piantano le barricate con F Io sto usando Frost che ha la tagliola per orsi che è un'arma molto buona Siamo su difficile ragazzi quindi non c'è un cazzo da ridere Allora io rinforzo qui Dobbiamo rinforzare il muri anche Dobbiamo rinforzare le pareti Tipo questa, vieni qua, rinforza questa parete Perchè questa è sfondabilissima Dobbiamo puntellare tutto ragazzi, se no qua non ne usciamo Che cazzo sta succedendo? Stanno arrivando! Io proteggo questa porta, tu guarda l'altra Oh mi stanno sparando di... Sti pezzi di merda Eh grazie a Stopping Madonna, madonna, mi hanno sparato Stai morendo? Sì Dammi un attimo, trattieni di... No, 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 non uscire, non uscire da lì, muori Si sono sfondate due porte contemporaneamente Sti stronzi sono venuti fuori come... Sto rallentando l'emorragia Mi raccomando rifornisci Ok Porca merda se è difficile, ne è uno ancora, due nemici Porco Giuda stava dietro di te Ok Poi io il P95, questo qua che ho, il fucile è nuovo, non l'avevo mai usato E' incontrollabile Sai che significa incontrollabile? Mi ricarico un attimo, vedo se riesco a fare un'altra barricata e così Ah mi stanno sparando, mi hanno ammazzato Davvero? Dietro di me Madonna, ma... Ma no, ma è impossibile È impossibile Eccoci qua, allora Ragioniamo un'altra volta Prima di tutto possono sfondarci da qua Quindi io direi di puntellare queste due parti Si Vai Vado di puntellamento a sinistra Con scappellamento al centro Così non possono né spararci da qua Poi, una volta che ci siamo protetti qui Ammazziamo i primi otto Nella seconda ondata pensiamo a puntellare anche gli altri posti Giusto? Ma qua potrebbero sfondarci? Possono sfondarci dappertutto Partiamo da sotto Che palle Ok Allora direi Da sopra non possono arrivare È vero, io posso Posso mettere le Filospinato Filospinato qua Filospinato me lo metto pure io Ok, stanno arrivando Ho segnato dei rumori Allora io vado in Oh ragà, meglio di così Non ci possiamo bardà Eccoli Non dobbiamo fargli vedere Dove sta il L'ostaggio Loro non lo devono vedere Ok, allora mi metto Oh, mi sono cagato sotto Ma è da dove? Da dove? Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so No, hanno trovato l'ostaggio L'hanno visto Muori, coglionazzo L'hanno trovato l'ostaggio Quindi sanno esattamente dove sta Stiamo qua Devo Devo rifornirmi pure io Eh, pure io Non Kaiser Filospinato Filospinato come se piovesse Ce l'hai tu, sì? Eh, filospinato ce l'ho Ma lo devi mettere per le scale Fuori, dalle porte In modo da Questi possono sfondare pure qua Quindi tanto pare No, cazzo Già stanno arrivando Sto mettendo un po' di roba a caso Sì, ma pure io sto mettendo tutto quello che ho Sto facendo Ok, così da qua se entrano Devono rallentare per forza Si è fatto male Perfetto Occhio Lo rialzo No, cazzo Aspetta, aspetta Aspetta, giro l'angolo Occhio dietro di te Bella No Ti ho Cazzo Ok Ti ho curato, ti ho curato Non so nemmeno come hai fatto Eh, perché ti ho Ti ho sparato Ah, grande Hai fatto bene Vedi che serve fare quella roba Hai visto? Pure l'ostaggio ho rianimato Da lontano Sto personaggio è OP Tre nemici Tre nemici, vai Sì, perdo pure un po' di tempo a piazza cose Beh, bomba Dove sta la bomba? Porca troia Dove cazzo era la bomba? Pensavo fosse lontana Guarda là dove ce l'avevamo In faccia al cazzo ce l'avevamo No Però ho capito come funziona quel Quello Dovrebbe portarcela in giro Non riproviamo la missione Neanche al cazzo Tanto Tanto mi da tanto Ce la fanno rifare Se ce la fanno rifare Chiudiamo il gameplay Giuro Tanto so Tre partite andate a merda proprio Facciamo la quarta La quarta che andrà a merda Andrà a merda È tostissima questa protezione a stagio Veramente Tosta Ma perché Cioè È praticamente impossibile Per due soli giocatori Tenere d'occhio tutti gli spot È impossibile È strazione a stagio Stavolta dobbiamo andare noi A recuperare Beh, già è diverso Già è più attiva come cosa Dai Allora, prima di tutto Qua è Qua robottino Sono d'accordo con te Poi bisogna trovarlo Allora Mi sono cagato sotto È il tuo drone di merda Sembrava un respiratore Ok, allora Entriamo 11 minuti e 43 per portare lo stagio fuori Vedi un po' È pochissimo Da dove cazzo sei entrato? Allora, io sto al primo piano Dove sei entrato? Scusami Eh, c'è la porta Sono sotto la porta Ok, qui il balcone Possiamo entrare eventualmente dal balcone Vediamo qui Non c'è niente Mi sto facendo Andando iperveloce Mi sto facendo il piano terra, eh C'è un respiratore Ok Forse Morca puttana Me l'ha rotto Non devi individuare i messaggi I miei miei cose Dobbiamo vedere dove stare Ok, trovato Bella Bravo Devo capire soltanto dove cazzo passare Non mi avrete mai Ok 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 Ho trovato dove entrare Forse Vediamo se da qui esce Ok, no ma sul fronte è troppo difficile Va bene Abbandono sto cazzafà Dove sei tu? Hai una scala la tua Di fronte a te più o meno Prendila Grazie amico mio che mi lasci sofferente C'è una scala rossa, l'hai presa? Rossa color oro Rossa color oro Prendila Ma mi serve la scala C'è i rampini Allora Da qua si può entrare Però è un po' difficile Perché c'è un sacco di gente E quindi? Proviamo ad andare qua Vediamo se si può fare un assalto da là Ah, vuoi fare Vuoi usare il rampino Rampini Ok, siamo sopra l'ostaggio Vediamo di far secchi qualche Qualche d'uno Ok Ok, uno l'ho ucciso Grande Sparando agli a le ginocchia Ricordiamo che stiamo giocando in difficile Forse anche per questo Ecco perché siamo così cauti Copritemi le palle Ha detto quello Vediamo da qui C'è un respiratore Non so dove sia Eccolo Qualcuno apre il fuoco Ma non lo vedo Morto sto respiratore di merda Occhio Vieni da questa parte Che c'è il respiratore Che mi ha Mi ha veramente fatto male E non è morto Ma dove sta? Non lo so Gli serve uno sputo per morire Se n'è andato Quella merda Appunto se n'è andato Allora Purtroppo non possiamo Sfanculare questa superficie Che non è distruttibile Ma no Aspetta aspetta Ci sono altri lucernari qua Vieni Eh ma tanto sono lontani E chi ci frega La cosa importante Indebolliamo la Eh certo Ok dai Possiamo Possiamo calarci da quello Da quello lì Da dove? Da qui Uno rimane sopra E l'altro cerca di Senti Là c'è qualcuno Che ci tiene sottotiro Non per qualcosa ma Dove? Qua sotto Secondo me c'è Uno stronzo che Oh oh Come ti dicevo no? Dove hai fatto? Eh C'è il respiratore Da qualche parte Aspetta aspetta Fammi vedere se esce Dove cazzo? Beccato Perfetto Morto? Sì Esploso Manco la soddisfazione Di darci i punti Allora io ti proteggo Dalle scale Quando sei dentro Avvertimi È al primo piano Ok ci sto Scendo anch'io Proteggimi Sento respirare Quindi stai attento A dove atterri Alt Sali su Sali su Non mi fa scendere Alt Premi alt Non mi fa scendere Devi guardare verso di me E premere alt Ecco di là C'ho una pianta davanti Non mi fa scendere Ma veramente? Eh Marco giude Ah mi sta già sparando Granata Dove? 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 L'avevano tirata a me I figli di puttane Allora Risaliamo su Preso Grande Ok saliamo su Saliamo su Saliamo su Perché da questa parte c'è Ok Allora senti un attimo Sfondiamo questa parete Che tanto si può sfondare Aspetta ci penso io C'ho qualcosa a distanza Togliti Togliti Vieni di qua Che tu sei cecchino No no quella non si può sfondare Mettila qua Sfonda pure da quella parte Tu sfonda di là Dove? Di là? Ok Capito? Ci siamo? Togliti Buono Oh e non muore Occhio mi sto ricaricando Dove state? Vedo l'ostaggio Però sento pure Dietro io da te Chi cazzo sparava? Entra entra qua Aiuto Dillo forte Mi raccomando Ok Non salvare l'ostaggio Cerchiamo di capire come Occhio Occhio Arca troia però Madonna che cazzo è Sei morto? C'erano delle bombe C'erano delle bombe nascoste Vaffanculo Guarda lì come sono morto da pirla Attento Buona parte l'ho fatta esaltare io sicuramente Però ce ne saranno ancora Cazzo 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 Eh la vedo nera La vedo proprio nera Non so dove Perché non lo posso far uscire A cazzo di cane L'ostaggio Dovresti portarlo da qua Aspetta Qua è facile Qua è molto facile Eh ma poi Lui può scendere Sì 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 Lo stagio è agile O perlomeno lo butti giù Si rompe una gamba Non fa niente Allora Arrivo a mischio Provo a fare un Devo dire una cosa La missione di salvataggio stagio Sarebbe bellissima Se i nemici non responassero tutti Quando lo prendi Aspetta un attimo Ma responano tutti Quando lo prendi Che fai ti copri la fuga? Eh sì vorrei Ma sono tutte non distruttibili Ah qui sì Conoscevo una ragazza Che si copriva la fuga Si vergognava Ok va bene Io ci provo Porca troia Oh ma ancora manco inizio Corri Corri Vedi questa cosa è proprio ridicola Cioè Vai Corri forest Bravo Guardate come si copre la fuga Con gli esplosivi Dov'è la punta Porca merda No vabbè Mi metto da questa parte Quattro minuti No E poi non si può Andare Porca merda 112 metri Ma da dove? Non mi ricordo Chi scrisse un articolo Di giornale O era un vignettista Era una cosa tipo Obama si dà la fuga Anche Sulvio Geniale Io Occhio Ma tua mamma Ma sì ma dai Ma non è possibile Che mi sia alzato E suon'esplosere bombe Ah oh 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 Dietro Dietro No vabbè dai Ma come cazzo si fa Ce n'erano 6.000 Non si può mettere In una In una stanza Questa la riproviamo Questa la riproviamo Ma nel prossimo gameplay